Come sarà il Sole tra 5 miliardi di anni? Una possibile risposta arriva dal telescopio ALMA, che è osservato con un dettaglio senza precedenti una stella che sembra la nostra, ma nel futuro. Si tratta di WIDRE, una gigante rossa situata nella costellazione dell'IDRA, a circa 375 anni luce dal Sistema Solare. I dati di ALMA pubblicati su Nature rivelano la presenza di punti inaspettatamente compatti e luminosi sullo strato più esterno della stella. Questo dimostra che l'atmosfera di WIDRE contiene una certa quantità di gas caldo, che secondo gli scienziati sarebbe generato da potenti e inaspettate fonti di energia. E in un futuro lontano la stessa cosa potrebbe accadere anche nel Sole. Nei prossimi miliardi di anni la nostra stella continuerà a consumare idrogeno fino a trasformarsi in una gigante rossa, diventando via via più grande e più fredda. Esattamente ciò che sta succedendo a WIDRE, che ci offre così una specie di palla di cristallo sul possibile futuro della nostra stella.